Vi do il benvenuto a questa terza conferenza di Città Benecomune. Quest'anno per Città Benecomune Conferenze abbiamo scelto una nuova formula, quella del dialogo, inteso come una speciale opportunità di sperimentare modalità fertili di lavoro comune tra le discipline, per proseguire nell'intento di sollecitare inedite interpretazioni della realtà urbana e territoriale in cui siamo immersi, tese al contempo a offrire occasioni di riflessione utili a delineare l'orizzonte futuro della città e ringrazio dunque moltissimo il professor Gabriele Pasqui e il professor Carlos Sini per aver accettato il nostro invito. La lettura intrecciata di alcuni dei loro testi ci induce innanzitutto a praticare un esercizio riflessivo sulle nostre stesse pratiche e a interrogarci sull'idea stessa di conoscenza, ovvero, per usare le parole di Carlos Sini, quella pratica innescata dalla distanza e differenza agita e trascritta nella voce e nella scrittura e sulle sue modalità di esercizio e di produzione. Le loro parole ci sollecitano al contempo a osservare con sguardo critico l'incessante processo di compartimentazione e di frammentazione dei saperi, caratteristico della contemporaneità. All'idea di interdisciplinarietà, da intendersi come la tessitura di un intreccio dialogante tra i diversi saperi, che si mantengono però staticamente saldi nei propri confini e limiti, ci suggeriscono invece di contrapporre quella di transdisciplinarietà, dove le varie discipline sono invitate a lasciarsi compenetrare, dando così luogo a una nuova interezza dinamica. Abitare e progettare oggi la città significa confrontarsi con una condizione di radicale pluralità delle pratiche dell'abitare, che si traduce in luoghi dove di frequente, scrive Gabriele Pasqui, i diversi sono prossimi senza condividere nulla se non la spartizione dello spazio. Un nuovo pensiero del cum, in altre parole pensare prima l'essere insieme, la relazione, poi l'individuo, potrebbe allora offrire alla disciplina urbanistica molteplici occasioni di riflessione, a partire dal riconoscimento di quella dimensione relazionale fondativa che connota l'intero mondo. Abbiamo deciso di partire da un primo punto, che è una riflessione, siccome il tema di oggi è dialogo sulla città, è una riflessione su che cos'è la città oggi. Come intendere la città oggi? Allora la prima osservazione che tutti sempre fanno è che il nostro mondo si sta sempre più urbanizzando. L'urbanizzazione planetaria riguarda non solamente il fatto che una quota enorme di popolazione si sta spostando all'interno delle città. Qualche anno fa, circa dieci anni fa, abbiamo avuto per la prima volta la metà della popolazione mondiale che viveva in aree urbane. Questo è un fenomeno destinato ad accelerare e in alcun modo può essere fermato. sarà sicuramente il nostro destino. Quindi il destino del mondo è un destino urbano. Ad alcune persone questo può non piacere ma è un dato di fatto con cui ci dobbiamo misurare. E questa urbanizzazione planetaria, io cercherò di evitare ogni riferimento diciamo alle letterature eccetera, non credo che sia molto interessante in questa sede, ma questa urbanizzazione planetaria ha dei tratti molto importanti che a mio modo di vedere ci suggeriscono diciamo un'attenzione alla natura di questo fenomeno. Ha a che fare con almeno tre grandi dimensioni che se ci pensiamo nel periodo lungo, ma proprio lungo, della storia dell'umanità sono le dimensioni che hanno generato i grandi cambiamenti su questa terra. La prima è la dimensione demografica, cioè il fatto che gli uomini e le donne insomma si spostano, si muovono e il movimento negli ultimi anni è sempre più un movimento che ha una calamita attrattiva all'interno delle città. Questo riguarda ogni parte del mondo con l'esclusione di alcune, tra le quali quella dove viviamo noi, che da questo punto di vista è assolutamente eccezionale e particolare. L'Europa e anche in parte il Nord America in questo momento rappresentano un'eccezione, importante, rilevante, ma un'eccezione. Quindi movimenti delle popolazioni e la dimensione demografica rappresenta uno degli elementi fondamentali attraverso i quali leggere questo processo e più complessivamente leggere quello che sta accadendo sulla terra. Accanto a questo le città sono i luoghi di un'accelerazione tecnologica incredibilmente potente che non solo ovviamente muta le tecnologie che all'interno della città vengono praticate, c'è tutta un'enorme retorica su cui forse non vale la pena nemmeno tanto parlare delle smart city, ma è chiaro che intorno a questo tema c'è un movimento diciamo di interessi molto potente, le tecnologie che si intrecciano alla vita urbana rappresentano un punto importante di innovazione complessiva della tecnologia. E queste tecnologie generano anche dei soggetti, i soggetti si producono attraverso questo intreccio con queste nuove tecnologie e questo accade in maniera peculiare dentro lo spazio urbano. Naturalmente questo ha anche a che vedere con alcuni fenomeni di cui tutti ci occupiamo e ci preoccupiamo che sono i fenomeni anch'essi connessi alla dinamica tecnologica ma poi alla dinamica diciamo così dei processi di globalizzazione economica mondiale che sono legati al cambiamento climatico che è il terzo grande asse di quelle che io vedo come diciamo grandi processi di trasformazione. Si muovono le persone, le popolazioni, mutano in modo radicale le tecnologie e con esse il nostro rapporto che intercore fra noi e la realtà che ci circonda in particolare nello spazio urbano. Il cambiamento climatico con tutto quello che si porta dietro muta radicalmente la relazione fra gli uomini e la natura. Io penso che un buon modo per riflettere su questi temi sia quello di pensare questo non dalla nostra prospettiva solamente europea o eurocentrica perché alla fine vediamo poco dei processi globali se li guardiamo solo da qua. Certo è importante capire dove siamo noi. Siamo in un pezzo piccolo di mondo tendenzialmente destinato a e già in parte escluso dalle dinamiche di potere globale più potenti, più forti. Coloro che oggi decidono i destini del mondo non stanno dove stiamo noi, diciamo, questo è utile saperlo. E al tempo stesso i processi che riguardano le città in occidente, a Milano, in Italia, in Europa, sono importanti ma sono minoritari rispetto ai processi di globalizzazione mondiale. Quindi comprendere quello che accade alle città, il destino delle città, per me è importante se viene fatto anche con questo sguardo, che è uno sguardo che prende un po' le distanze, che guarda anche le cose da una prospettiva o da un punto di vista diverso. E se guardiamo da questo punto di vista che cosa vediamo? Tantissime cose, non le posso certo richiamare qua tutte quante. Vediamo che per quanto noi abbiamo un'idea molto precisa di che cosa sia la città e quando abbiamo in mente la città, abbiamo in mente la nostra città, la città europea, la città occidentale, con tutte le sue straordinarie virtù, straordinarie virtù, noi sappiamo che i fenomeni urbani in giro per il mondo hanno tratti e caratteristiche del tutto diversi. E quindi è importante che ce ne facciamo carico se pensiamo a che cos'è la città oggi. Il confine o lo sconfinamento fra urbano e non urbano, la difficoltà di definire dei confini di quello che è urbano e di quello che è non urbano, rappresentano oggi un fenomeno che ha mille facce diverse, che riguarda sia parti nelle quali lo sviluppo economico ha accelerato i processi di urbanizzazione anche in termini di aumento della ricchezza e in parti invece del mondo nelle quali si annidano i fenomeni della disuguaglianza, della povertà più estrema eccetera. E quindi è importante tenere conto appunto che questo sconfinamento, questa difficoltà di perimetrare l'urbano rispetto al suo altro è un fenomeno che ha molte facce diverse ma è pervasivo, è molto importante. Dall'altra parte, questo è un altro punto su cui mi piacerebbe poi magari che il professor Sini riprendesse questa riflessione, questo processo di urbanizzazione è anche un processo di occidentalizzazione del mondo. Il modo nel quale è accaduta l'urbanizzazione è stato segnato dal fatto che l'Occidente, l'Occidente con la sua cultura, le sue tecnologie eccetera, è stato oggettivamente pervasivo. Il sogno dell'Occidente, cioè quello dell'universalizzazione globale, si è in gran parte realizzato. Però è interessante che si è realizzato in modi molto diversi perché poi il modo in cui questa occidentalizzazione si realizza in Africa, in Sud America, in Asia, nel Medio Oriente, a Dubai, a Maputo, a Rio de Janeiro, è ovviamente completamente diverso, però dentro questo segno. E questo è un segno di quella che potremmo anche definire un'omologazione delle caratteristiche dell'urbano, che ha tante facce. Quindi da una parte un processo diciamo di omologazione, di occidentalizzazione, che però ha tutte queste varianti e queste declinazioni. Dall'altra parte, nelle città, dentro le città, ma anche fra le città, si annida una crescita, la citava prima Oriana Codispoti, una crescita di una varietà enorme, sterminata di forme di vita, di pratiche di vita, di pratiche d'uso dello spazio. Quindi abbiamo come un doppio movimento, no? Da una parte c'è una tendenza delle città ad assomigliarsi sempre di più, di alcuni processi ad essere sempre più simili, di alcune tecnologie ad essere sempre più pervasive, dall'altra però dentro le città si annidano sempre di più frammentazioni, forme, differenze fra gruppi, fra popolazioni, fra etnie. Questa secondo me è la questione che chi oggi governa le città deve trattare. Cioè come tenere insieme alcune esigenze, alcune istanze di universalizzazione, anche dei diritti, dei principi, eccetera, da una parte, e dall'altra però prendere sul serio quella che io ho chiamato di recente pluralismo radicale, è stata criticata questa modo di dire, ma che è la pluralizzazione delle forme di vita, che concretamente nello spazio urbano vuol dire che i gruppi, le persone, le etnie, i sessi diversi, vivono, praticano la città in modo molto differente. Allora la prima questione è come cercare di stare dentro questa congiuntura, di come cercare di stare dentro questa oscillazione fra queste due dimensioni. Per farlo, e passo, devo stare attento che dobbiamo parlare non troppo, per farlo, quello che ho sempre pensato in questi anni e che sicuramente ho imparato dal mio maestro, da Carlo Sini, è che abbiamo bisogno di uno sguardo che sia capace di osservare le pratiche, cioè la prospettiva delle pratiche, la prospettiva dell'osservazione, della materialità, dei processi, del modo di vita delle persone dentro la città, è una chiave fondamentale. È una chiave fondamentale anche per chi fa urbanistica, ma oggi non parliamo di urbanistica, non credo che il nostro punto oggi sia esattamente quello. Al professore l'urbanistica non gli interessa granché, insomma, giustamente. Però a me sembra che la prospettiva, lo sguardo delle pratiche, magari lui adesso lo riprenderà, possa essere una buona chiave per stare dentro questo crinale, per comprendere bene questo crinale. Quindi per la prima volta gli passerei la palla così. Provo a guardare le cose con molta ingenuità, ma mettendo sul tavolo esperienze, data la mia età io ricordo bene come era Milano 50-60 anni fa, cioè sono cresciuto nella città operaia. E nella città operaia, naturalmente, si metteva in movimento, non dico di quello che c'era prima, naturalmente, che ovviamente ha tutta una storia, lo sappiamo benissimo. Partiamo dal Novecento, insomma, no? Dalla industrializzazione del Novecento, dove la città Milano, parlo di Milano, ma ci sono situazioni molto analoghe, ovviamente in altre città europee, dove la città è la città operaia ed è nettamente divisa tra la borghesia ricca, diciamo così, la borghesia media, anche come luoghi dell'abitare, appunto, no? Ma soprattutto il punto sul quale vorrei riflettere insieme a tutti noi, che cosa teneva insieme la città? Che lì aveva dei confini ben precisi, ricordo benissimo una mia prima fidanzatina stava a Monza, io per andare da Milano a Monza e uscivo dalla città, sostanzialmente andavo in campagna, no? Poi si arrivava all'altra città, adesso non c'è più differenza. Che cosa teneva unito tutto ciò? Credo l'ideale industrialistico, industriale, capitalistico, industriale della produzione di merci. Si producevano merci e si viveva ovviamente il paradosso che Marx aveva descritto così bene, per cui se tu entri nell'ottica della produzione delle merci e più ne produci, cioè il mercato, eccetera, eccetera, più devi avere dei compratori. Perché è inutile produrre merci se non ci sono delle persone in grado di acquistarle? E allora quella fase lì era una fase nella quale, da un lato, le merci che si producevano si producevano per la borghesia, per le persone che disponevano di denaro e che erano una minoranza, naturalmente, una piccola minoranza. Io ricordo le donne di servizio di allora come erano vestite. Dire una cosa, come dire, generosa. Si raffazzonavano qualcosa addosso, riciclavano. Io le ho viste, capite? Adesso è inconcepibile una cosa di questo genere, non esiste, nemmeno nelle fasce più disperate. Quindi c'era una produzione di oggetti, di cose, di merci che erano rivolte ad un pubblico che se le poteva permettere, ma nella grande contraddizione, perché questo pubblico era scarso e quindi la produzione di merci doveva necessariamente andare di pari passo con l'arricchimento della popolazione generale. I sindacati, le lotte di classe, erano nella logica stessa, Marx lo ha visto molto chiaramente, erano nella logica stessa di quella produzione che aveva dentro di sé una contraddizione irresolubile, cioè io ti porto via una parte del tuo lavoro, del prodotto del tuo lavoro perché non te la pago, ma se non te la pago tu non sarai in grado di comprare. E quindi alla fine l'ideale sarebbe l'ideale. La fine di questo processo sarebbe che io ti ridò tutto quello che tu hai prodotto. Fine del capitalismo, fine dell'industrialismo. Come si esce da questo paradosso? Lo sappiamo tutti attraverso la globalizzazione della produzione e l'imperialismo, cioè perché trovo sempre altrove qualche d'uno da pagare di meno di quello che produce. Ma idealmente le due cose tendono a una uniformità, cioè io devo produrre tanto ma devo produrre anche il compratore. Come si chiama questo? Si chiama in una maniera semplicissima. Questo tipo di nuova produzione che comincia dopo la seconda guerra mondiale, nella seconda metà del novecento eccetera eccetera, si tratta della società del consumo, non della produzione ma del consumo. Allora la città diventa il luogo del consumo e del consumo generalizzato secondo due prospettive che sono molto interessanti, sono molto interessanti e che sono caratteristiche perché vanno incontro appunto ad una trasformazione del popolo, della gente. Questa produzione di massa, questa produzione appunto esuberante deve soddisfare due cose, quello che ti metti dentro e quello che ti metti fuori. Guardatevi intorno, non ci sono che ristoranti o negozi di moda. La mia città, la mia Milano non era fatta così, c'erano pochi ristoranti, la moda era per persone molto elevate e c'erano tante altre cose, basta andare in galleria, non lo so chi ha la mia età e ha un'immagine di che cos'era la galleria 50 anni fa e poi ci entra oggi. È tutta un'altra cosa, non voglio criticare niente e nessuno ma certamente è un'altra cosa. Quello che ti metti dentro e quello che ti metti fuori è in mezzo il vuoto spinto. Questa è la nuova situazione, la nuova cultura di diciamo così, o pratica economica fondamentale, perché se non guardi quello tutto il resto è sovrastrutturale, come diceva bene Marx, è una conseguenza, non è il motore. Quindi il motore non è più produrre oggetti, il motore è produrre bisogni e desideri, ma l'hanno detto in tanti queste cose, ne hanno dette anche molto bene. Produrre desideri di cose futili, produrre desideri che comportano mode bislacche, di cui non si sente nessun bisogno e che producono il fenomeno americano, ma ormai anche europeo, di questi armadi che vanno in giro, di questi bambini che sono tre su cinque sovrappeso, anche a Milano. Allora se guardiamo le cose da questo punto di vista è evidente che la città non ha più una connotazione storico-culturale che viene dalla tradizione. Tutto questo viene un po' travolto, viene un po' cancellato. La casa della cultura è un'eccezione. Difatti non è un luogo dove per entrare si fa la coda, no? Giustamente perché, giustamente o ingiustamente non lo so. Allora se guardiamo le cose in questo modo si capisce che anche l'estensione della città, intanto l'estensione della città nasce anche dalla costruzione di mezzi di trasporto rapidissimi che una volta non c'erano, che sono necessari? Sono utili? Sono domande queste alle quali è molto difficile rispondere, no? Ricordavo con Cappelli, l'altra volta che ci siamo visti, un convegno fatto qui, tanti anni fa, sulla velocità. E il risultato che veniva fuori dalle varie relazioni, era un bel convegno che univa discipline diverse, veniva fuori che più aumenta la velocità dei mezzi di locomozione meno tempo abbiamo. E' così, meno tempo abbiamo. Cioè non è come uno penserebbe, dice ma io in un attimo sono a Monza, magari. No mi faccio tre fidanzate, ma adesso a parte le fidanzate, mi raccontava un amico che adesso non c'è più, che era un po' più vecchio di me, che quando lui era ragazzino andare da Livorno, lui era di famiglia livornese, da Livorno a Firenze comportava un consiglio di famiglia. Eh sì, devo andare a Firenze, diceva lo zio. E allora bisognava prendere tutti dei provvedimenti perché mica si poteva pensare di tornare in giornata. Non era possibile. Ma allora voi vi rendete conto che questo difetto della locomozione non si poteva tornare in giornata ti regalava un sacco di tempo. Perché tu andavi a Firenze, facevi le cosette che dovevi fare, andavi negli uffici dove è e poi non avevi più niente da fare. Quindi potevi andare a teatro, potevi andare al cinema, potevi andare al ristorante, potevi fare un sacco di cose, potevi leggere, trovare gli amici. Adesso no, adesso se io faccio una conferenza a Roma, ben inteso che l'orario mi consenta di tornare. E voi capite che allora questo stravolge la natura della città come persone della mia età l'hanno vissuta in giovinezza e con una logica totalmente diversa. Per noi è molto difficile, ha ragione Gabriele Paschi, è molto difficile capire come atteggiarci di fronte ad una omologazione che io declinerei per esempio nella omologazione del consumo, una società che non produce. Il terziario ormai è impazzito, no? Prima il terziario, ma basta vedere come sono organizzate le nostre università. I rappresentanti del terziario dell'università, cioè quelli che non producono niente, ma che amministrano, gli impiegati, i dirigenti. Quindi il professore adesso se vuole parlare con un dirigente deve prendere l'appuntamento. E' così, no? Ecco, quelli che non producono, ma che semplicemente sono la struttura burocratica del terziario che tiene in piedi una baracca spesso assurda, spesso autoreferenziale, sono molti di più di quelli che dovrebbero produrre. E il fatto che dovrebbero produrre cultura, che dovrebbero produrre sapere, eccetera, è condizionato dalle esigenze del terziario. Quindi questo vuol dire che tutta la società è agganciata non alla produzione di cose, ma all'amministrazione del consumo e all'amministrazione dei desideri del consumo, quello che ti metti dentro e quello che ti metti fuori, in tutti i sensi di questa espressione. Nello stesso tempo ha ragione l'osservazione che abbiamo sentito poc'anzi di Pasqui, però nella città ormai, proprio perché assorbe tutto, diventa una megalopoli, c'è di tutto. C'è di tutto, è vero, etnie diverse, differenti, che si chiudono in loro stesse, che spesso abitano nelle banlieue, nelle zone più... È vero, però, al di là di questa differenza e di questa solitudine popolosa, diciamo così, desiderano tutti le stesse cose, eh? Si mettono tutti le stesse cose di fuori, le stesse cose di dentro, se ce la fanno, per quanto ce la fanno, e se non ce la fanno, si arrabbiano di brutto. Allora scassano tutto, bruciano. Ecco, come si fronteggia una situazione di questo genere? Io credo che non sia molto produttivo generalizzare. Ha ragione Pasqui, dobbiamo conoscere meglio il mondo, naturalmente. Ma, ecco, accanto a questo, come sono le città cinesi? Abbiamo lungamente parlato di questo. O le nuove città, che nelle varie parti del mondo... Basta andare a città del Messico, sì, di fronte ad un'esperienza straniante, naturalmente. Ma noi, noi qui, cosa dobbiamo fare? Ecco, questo è il punto che aggiungo, no? Io credo che ci sia bisogno di una grande rivoluzione culturale. Cioè che, proprio per l'efficienza, l'efficacia della strumentazione tecnologica, che è inarrestabile, che ha tutti i suoi vantaggi, che comporta anche i suoi problemi, naturalmente, accanto a tutto ciò, bisogna puntare sulla storia. Perché le nostre città, le città europee, sono caratterizzate dalla loro storia. Come si reagisce? Io credo che si deve puntare, certamente, su un ripensamento della utilizzazione storico-culturale della città, che non è turistico, che non è consumistico, ma che deve dare luogo a iniziative, anzitutto, dall'alto, perché si comincia dall'alto, cioè con un altro modo di formare i tecnici, gli ingegneri, gli architetti, un altro modo di insegnare nelle università, un altro modo di concepire la relazione con la scuola pubblica. Insomma, è un pensiero che non esiste, che non esiste, per questo noi lavoriamo sulla transdisciplinarità, per il tentativo di parlare francamente di questi problemi tra competenze diverse, no? Andando alla radice dell'umanità, del vivere in queste città. Poi, parliamo di altre città, sono altri problemi, nei quali lui è competente, io sono un asino. Però noi abbiamo un problema qui, abbiamo un problema qui, abbiamo il pericolo, così come non sentiamo più parlare milanese, e va bene, lo capisco, le cose, però bisogna vedere cosa parliamo, eh? Cosa invece abbiamo sostituito al milanese, che si sa, al dialetto, che era la lingua di Milano, no? Adesso non è per nostalgie, per carità, va benissimo, ma dove prende radice il parlare dei giovani, il parlare comune, quotidiano, lo sdoganamento della volgarità, lo sdoganamento dell'insulto, della completa, in eleganza sarebbe già la completa maleducazione, no? C'è anche questo, la città come luogo della maleducazione. Non è mai stato così. Almeno io non lo ricordo così. Dobbiamo recuperare, evidentemente, una tradizione, un passato, trasformandolo, come dice bene sempre Gabriele, giustamente, nessuna nostalgia, ma metamorfosi, certo, ma una metamorfosi consapevole, dove lo promuoviamo? Questo non lo so, qui ne stiamo parlando, è già un piccolo passettino, ma lo facciamo nei luoghi istituzionali, lo facciamo nei luoghi di formazione, abbiamo una consapevolezza sociologica, economica, adeguata, o ognuno se ne va per i fatti suoi, cioè l'ingegnere va, e così via, no? L'imprenditore, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, insisto, il problema è che siamo in una società di massa in cui sostentamento è il consumo, produce consumo, solo così sta in piedi, ed è un mistero economico, se volete, no? Produce consumo, è una società consumistica, come è stato detto già dagli anni trenta, dai grandi economisti, e sulla base di questa società del consumo noi stiamo devastando le nostre anime, perché il consumo certamente è cosa ti metti dentro e cosa ti metti fuori. è terribile, no? Un tassista di Roma, devo dire, si lamentava di suo figlio e dei giovani e diceva, usava queste espressioni, sono dei barattoli vuoti. Naturalmente non è vero questo, i giovani sono i giovani e non hanno nessuna colpa poi, per lo più, di essere come sono. non sono barattoli disperati, secondo me, ma certamente incapaci di vedere altro che cosa mi metto dentro e cosa mi metto fuori. Come si reagisce non lo so. C'è un libro del professore fra i molti che io amo che si chiama Da parte a parte nel quale si riflette proprio su questo. Ognuno di noi sta in una parte, sta dov'è. E da questa postazione deve però riconoscere la molteplicità delle parti ed essere in grado di guardare la propria posizione e la posizione degli altri. Questo nella città contemporanea è davvero indispensabile. Allora, per riprendere le sue sollecitazioni io affronto tre questioni che poi gli rilancio ulteriormente. Sono molto d'accordo su quello che ha detto sul rapporto fra consumo e produzione. Cioè, l'identità, il senso delle città è stato a lungo connesso con il fatto che le città erano dei luoghi nei quali si concentrava la produzione. Dove per produzione abbiamo un'accezione ampia di questa espressione. Lo spostamento del senso e dell'identità urbana sulla dimensione del consumo si è verificato e secondo me per tanti aspetti almeno qui da noi non si torna indietro su questo punto. Si tratta di capire come sta. Allora, questo tema dello spostamento diciamo del rapporto fra produzione e consumo nel senso anche dell'esperienza urbana nella narrazione dell'esperienza urbana si porta a mio modo di vedere dietro anche la questione del potere urbano che è un punto molto importante e molto delicato. Cioè, chi decide la città? Questo è un titolo di un libro di un altro mio maestro di tanti anni fa Pierluigi Crosta che scriveva negli anni 70 un libro che era chi decide la città? Cioè, chi è che comanda dentro la città? Nella Milano degli anni 70 a cui faceva riferimento il professor Sini era un po' più facile. Milano è sempre stata una città abbastanza complessa in realtà rispetto a Torino ad altre città però insomma un po' si capiva chi decideva la città. In parte è così anche oggi ma è comunque molto più difficile perché i processi attraverso i quali si determinano le decisioni relevanti per la città sono estremamente frammentati perché i poteri economici che influenzano le decisioni urbane sono molto articolati molto diversificati perché l'economia non è tutto e in questo è giusto diciamo avere un ritorno se vogliamo materialista all'analisi dei rapporti di forze economici il professore ha citato Marx ma esistono anche altre cose che influenzano potentemente le decisioni urbane che sono fatte di culture che sono fatte di immaginari che sono fatte di una rete sterminata di discorsi disciplinari e non disciplinari che strutturano diciamo il potere urbano il potere all'interno della città quel che è certo è che il modo in cui funziona questo potere è molto diverso dal passato questo lo vediamo ad esempio sui processi di trasformazione urbana ne abbiamo un po' parlato anche col professore il ruolo che ha la finanziarizzazione del mercato urbano ad esempio è straordinariamente potente abbiamo un immaginario che era l'immaginario della crescita delle nostre città che tutti hanno in mente dalle mani sulla città in cui si capiva abbastanza bene che cosa succedeva c'era il palazzinaro adesso si chiama Devello per me insomma il palazzinaro che un po' andava al comune a convincere di dargli comprava là un'area ovviamente agricola andava in comune magari passava anche una bustarella al funzionario comunale per avere qualche vantaggio una volumetria costruiva e poi se riusciva vendeva e cercava insomma di fare i propri soldi adesso non funziona più tanto così voi sapete benissimo che a Milano esistono alcuni fra i più grandi progetti di trasformazione urbana che in questo momento sono parte del capitale finanziario di grandi fondi di investimento internazionali porta nuova con l'esclusione di un edificio è tutta nelle mani di un fondo sovrano cioè di un fondo di proprietà di uno stato di un emirato la logica della finanziarizzazione è una logica profondamente diversa da quella tradizionale perché diciamo muove delle ragioni dei meccanismi differenti a chi gestisce quel fondo sovrano quel fondo immobiliare sovrano per esempio interessa relativamente il fatto che alcune di quelle case in questo momento siano rimaste invendute alcuni di quegli appartamenti siano ancora vuoti perché fa parte di un processo appunto di valorizzazione finanziaria dei suoi dei propri asset come si dice del proprio capitale finanziario quindi da una parte c'è una sorta di disancoraggio di questi grandi processi di natura economico-finanziaria che hanno una natura globale e invece la materialità della città il fatto che la città è fatta di luoghi case oggetti spazi eccetera eccetera e dall'altro tutto questo rende estremamente difficile estremamente difficile controllare e governare questi processi al netto dell'intenzione di chi governa mi permetto di dire cioè anche quando chi governa quando chi governa intende assecondare molto questa cosa va bene diciamo ma anche chi intende controllarla di più fa molta più fatica per mille ragioni dall'altra parte anche questo è un punto importante noi siamo abituati a pensare ad un rapporto fra la sovranità territoriale cioè la possibilità di governare un certo territorio e la residenzialità cioè il fatto che tu vivi lì che è saltata da tempo noi abitiamo in città nelle quali molto spesso non risiediamo per mille ragioni Milano è una città molto piccola Milano comune di Milano in cui entrano un sacco di persone per lavorare qualcuna anche esce vivono tantissime persone che non risiedono qua di diversa natura moltissimi immigrati non sono formalmente residenti o perché sono irregolari o perché non hanno la residenza ci sono decine di migliaia di studenti stranieri ci sono i parenti dei pazienti dei nostri ospedali che sono decine di migliaia all'anno che vengono in città tutte queste persone usano la città usano i suoi servizi consumano potentemente all'interno della città in varie modi in varie forme ma non fanno parte della constituency della democrazia locale non votano il sindaco di Milano questo è un fenomeno molto importante molto rilevante perché disaccoppia diciamo le fonti di legittimità tradizionale che è il fatto che tu decidi dove stai decidi dove risiedi e il fatto che le persone stanno in posti dove non risiedono anche questo è un problema dal punto di vista il governo dei processi democratici infine certamente tutto questo ha anche a che vedere col fatto che il governo inteso come attività pubblica è sempre più diventato una parolaccia sostanzialmente una four letter words come dicono gli inglesi una parolaccia cioè un qualcosa che non è tanto positivo negli anni 70 il pubblico diciamo in generale in senso lato era positivo oggi c'è un cambiamento profondo di natura culturale che porta e che spinge a indebolire le capacità le risorse le competenze del pubblico nel complesso e quindi anche nella capacità di governare i processi per ragioni ripeto culturali di lungo periodo e così via se mettete insieme tutti questi fenomeni comprendete che il tema del potere è molto imprendibile cioè una volta anche fra virgolette gli avversari erano molto più chiari oggi è molto più difficile comprendere come stare dentro questi processi e come governarli vorrei anche tornare sul secondo sul punto che lui ha potentemente sollevato all'interno del suo intervento il tema di quella che lui chiama una grande rivoluzione culturale io penso che per comprendere come si possano promuovere e sviluppare delle culture urbane capaci di stare all'altezza diciamo dei problemi a cui abbiamo all'uso bisogna comprendere come funzionano oggi i luoghi di produzione e riproduzione dei saperi e delle culture nella città cosa che effettivamente noi non sappiamo bene sappiamo che ci sono dei luoghi tradizionali di produzione e riproduzione dei saperi che non funzionano o che funzionano abbastanza male compreso quello in cui lavoro io e in cui peraltro ha lavorato anche il professore per tutta la vita perché è stato professore all'università questi luoghi tendono a non funzionare più per tante ragioni alcune le ha ricordate il professor Sini la burocratizzazione incredibile di questi luoghi eccetera luoghi come la Casa della Cultura che hanno una rilevanza enorme per la produzione di culture urbane dentro la città resistono fra virgolette mi permetto di dirlo a ferruccio però non sono oggi oggettivamente dentro una temperie culturale politica ideologica che li supporta particolarmente mi sento di poter dire ci sono altri luoghi che però producono saperi urbani in varia forma in vario modo dal basso non dal basso eccetera eccetera secondo me una comprensione quindi di quali possono essere i luoghi in cui fare quell'operazione è particolarmente importante e su questo mi piacerebbe anche che il professore ci dicesse qualcosa di più su un tema che per me che mi ha fatto molto riflettere anche quando abbiamo discusso insieme che è come trattare la questione della memoria lui ha insistito molto su questo aspetto della memoria la memoria che è memoria della città non nella declinazione appunto della disneyzzazione delle città della turistizzazione delle città cosa vuol dire prendere sul serio il tema della memoria della città e quali sono i luoghi dove questo è possibile fermo restando che l'università oggi molto difficilmente mi sembra in grado di fare questo e come però questo tema della memoria è in grado di agire diciamo dentro gli spazi urbani dentro i luoghi della città quindi mi piacerebbe che su questo tema magari il professor Sini ci dicesse ancora ancora qualcosa da un certo punto di vista siamo convinti tutte e due ma non solo noi due che ci sono dei processi globali mondiali legati al capitale finanziario potentissimi e che nessuno ha il potere appunto di fermare o di trasformare in maniera sostanziale che poi hanno anche dei lati non necessariamente tutti negativi insomma cioè non siamo diventati ricchi coltivando la terra siamo diventati ricchi attraverso l'industrializzazione mica tutti sono diventati ricchi certamente però insomma il livello di benessere generale è indiscutibile e senza la produzione industriale il capitale finanziario eccetera questi fenomeni non si sarebbero verificati quando si sono verificati hanno dato a noi occidentali infatti un prestigio un privilegio quello che ricordava prima Gabriele cioè la europeizzazione già Usser nel 35 si era reso conto di questo si chiedeva ma che cosa sono la Cina e l'India e noi siamo come la Cina e l'India oppure un'altra cosa ecco credo che con questi fenomeni si debba venire ad un compromesso no dividendo distinguendo due aree precise di responsabilità che invece non si distinguono più nettamente forse non si sono mai adeguatamente distinte Marx diceva che pensare di distinguerle è un'illusione è una cosa sulla quale riflettere Kintz per esempio diceva no che si può cioè che va benissimo l'iniziativa privata va benissimo quello che fa il capitalista eccetera eccetera il finanziatore però quello che lui non può fare lo faccia il governo lo faccia appunto il potere collettivo pubblico la rappresentatività della popolazione allora è ovvio che quei fenomeni che descrivevi tu sono fenomeni di omologazione cosa vuoi che gliene freghi a quelli che mettono i capitali per comprarsi tutta una zona di Milano della memoria o della storia o della eleganza o della bellezza inevitabilmente come succede all'università se tu tendi ad omologare i corsi di laurea in modo di fare gli esami i modi di registrarli come ormai capisci tu devi soltanto scrivere x o schiacciare funziona meglio funziona meglio per chi ecco funziona meglio per coloro che tragono un profitto da tutto ciò la politica è fatta dovrebbe essere fatta per invece come dire opporre queste cose non le fai tu le faccio io queste cose non ti riguardano mi riguardano e qui tocchiamo il punto vero perché c'è ancora una politica questo è il punto esiste ancora nella società occidentale la possibilità di pensare a una politica che fa quello che diceva Keynes cioè quello che il privato non ha interesse a fare perché non ha interesse non ricava denaro lo faccia il politico ma quale politico a parte l'ignoranza totale di questi problemi sempre di più nella testa dei politici che non sono selezionati in base a una cultura ma in base ad una così preferenza gorgiana diciamo così ma poi come fanno loro stessi a essere votati supportati se non facendo intrallazzi con quell'altro potere siamo tutti ben in chiaro che si può fare qualche cosa se c'è un'autonomia che ragiona nell'interesse della collettività non nell'interesse di colui che ci mette i soldi è così semplice non c'è bisogno di ora Gabriele diceva come si può fare a rianimare la memoria cioè a spiegare a mostrare ad una collettività che il suo interesse non è quanti negozi di moda ci sono ma come vive letteralmente dentro la città come vive le possibilità che la città possiede e per lo più tutti le ignorano ecco la memoria io credo che non possiamo più fidarci delle grandi istituzioni perché si sono anche loro omologate per funzionare ma per funzionare dal loro punto di vista non per produrre della cultura e l'unica via è di tornare in strada cioè di fare la cultura insieme cioè non qualche cosa che tu offri è già pronto lo devi solo mangiare lo devi soltanto schiacciare lo devi soltanto tu sei l'appendice di una macchina no non che io ce l'abbia con le macchine ma facciamola insieme la macchina cioè mettiamoci insieme a capire originariamente che cos'è il mercato comunale che cos'è una tipografia che cos'è una casa editrice certamente queste sarebbero iniziative di formazione fortemente stimolanti sul piano della memoria perché quando ti metti per quella strada lì ti accorgi del peso del passato dell'enorme peso del passato nel bene e nel male naturalmente e diventi protagonista se tu non fai protagonisti i cittadini ma sono soltanto le appendici di una macchina del consumo e del divertimento perché bisogna divertirsi non si sa perché si deve andare in un museo per divertirsi non sarà meglio andare in un museo per capire qualcosa per vedere quanto sia ignorante la meraviglia la meraviglia che c'è in queste tradizioni che noi abbiamo lo devi fare assieme alla gente con la gente devi creare dei luoghi delle opportunità delle possibilità noi parliamo di laboratorio appunto invece che darti già il libro fatto facciamolo insieme sto libro vediamo insieme di ricostruire una memoria con l'aiuto di chi ne sa un po' di più di chi ne sa un po' di meno ecco organizzare queste cose però naturalmente esige un corpo politico che le favorisce e lì ritroviamo ritroviamo al dramma provate ad andare da un assessore a proporgli qualcosa del genere diceva sei matto non mica tempo da perdere io primo devo essere rieletto e allora siamo alla catastrofe capite non si può fare niente si fa soltanto si subisce soltanto una globalizzazione insensata e disumana che provoca conflitti il professore ha detto una cosa che condivido molto la nostalgia per la città lontano addirittura per quello che accade prima delle città può essere diciamo divertente però non tiene conto che dentro i processi di urbanizzazione connessi ai processi di sviluppo economico siamo stati capaci di diventare tutti un po' diciamo più benestanti un po' meno poveri un po' più sani eccetera questo non dobbiamo dimenticarci mai mai perché sennò abbiamo una rappresentazione davvero un po' stravagante della faccenda quindi è chiaro che alcuni di questi processi che si portano dietro sicuramente effetti perversi ritengo che quelli legati al cambiamento climatico siano i più perversi e i più pericolosi ma anche tanti altri ovviamente e su uno di questi torno fra un attimo diciamo questi fenomeni questi processi hanno anche migliorato la qualità della vita delle persone questo non possiamo dimenticarlo questo vale anche per le tecnologie sicuramente so che il professore condivide il fatto che non non dobbiamo pensare che la tecnologia di per sé costituisca il problema il dramma siamo animali tecnologici da sempre no? da sempre quindi non è questo il tema certamente le città sono state in passato luoghi di conflitti abbastanza chiari il conflitto il conflitto di classe è stato dentro la città che ha trovato corpo si è fatto corpo dentro la città oggi questo tipo di conflitti quelli legati alle differenze sociali esistono ancora sono meno visibili sono meno trasparenti hanno meno canali attraverso i quali si possono esprimere perché i soggetti collettivi che per decenni per un secolo intero li hanno espressi stanno messi un po' così così diciamo non sono in buonissima salute però esistono quello che quello che però è sicuro quello che è certo è che questi conflitti ancora anzi tutti 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 ci stanno dicendo che nonostante quello che abbiamo detto cioè che complessivamente è cresciuta la ricchezza a livello globale anche nelle parti del mondo in cui si stava peggio però al tempo stesso sono anche cresciute le diseguaglianze questo è vero anche a Milano che è una città certamente in cui si sta mediamente bene ma in cui le differenze le diseguaglianze sociali e anche la dimensione spaziale delle diseguaglianze sociali sta crescendo questo è un punto che secondo me non va dimenticato ed è una questione molto molto importante spesso ripeto questo non trova poi modo di esercizio del conflitto nelle modalità tradizionali che noi avevamo in testa perché non ci sono gli agenti collettivi gli attori collettivi che agiscono più di tanto però dall'altra parte ci sono anche altri modi altre forme di manifestazione del conflitto del dissidio chiamatelo come volete insomma che sono anch'essi molto rilevanti molto importanti e che riguardano quella pluralizzazione delle forme di vita a cui facevamo riferimento cioè il fatto che le città sono sempre più abitate da persone che non solo hanno interessi diversi cosa che è naturalmente legittimo ma che condividono come dire un quadro di riferimento quando c'erano i conflitti di classe all'interno della città le lotte per la casa negli anni 70 chi stava da una parte o dall'altra della barricata diciamo gli operai padroni avremmo detto allora condivideva un quadro di riferimento un quadro di senso oggi molte delle questioni su cui più siamo sollecitati e molti dei conflitti che io chiamo conflitti regressivi cioè quelli che dicono no gli zingari via di qua quelli che non ci piacciono no questo no quello no conflitti di natura regressiva sono conflitti nei quali spesso noi abbiamo di fronte parti del conflitto soggetti del conflitto che non condividono granché neanche dal punto di vista della comprensione di che cos'è l'urbano di come si sta nell'urbano di quali sono i valori condivisi eccetera eccetera questo ha a che vedere con la questione che Oriana citava all'inizio di questa pluralizzazione delle forme di vita nel dialogo che abbiamo fatto che uscirà all'inizio dell'anno prossimo il professor Sini usa un'espressione che a me è piaciuta molto che è aggregazione con possibile cioè il fatto che e che un po' riprende il tema del cum che dicevi tu che abitiamo lo spazio urbano e che abbiamo bisogno di immaginare un vivere insieme che non abbia necessariamente bisogno perché quello non ce l'abbiamo di una condivisione comunitaria perché se noi aspettiamo di avere la condivisione comunitaria di essere tutti più o meno cioè noi qua dentro forse ma non lo so magari ci potremmo un po' intendere ma là fuori no là fuori no là fuori ci sono attori persone gruppi soggetti che intendono la città lo spazio urbano il loro rapporto con lo spazio urbano i valori che questo si porta dietro in una maniera completamente diversa che vivono lo spazio pubblico in maniera completamente differente da noi che abitano lo spazio pubblico in maniera completamente differente da noi in questo senso mi è piaciuto molto questa mi è piaciuta anche molto l'espressione tornare in strada che mi sembra molto bella cioè come facciamo a farci carico di questa cosa dobbiamo immaginare per esempio un lavoro sulla memoria nel quale dovremmo prendere la memoria nostra e la memoria degli altri che stanno qui con noi non solo la nostra la nostra è un pezzo è una parte siamo parte di parti quindi capire come fare questo lavoro secondo me è molto molto interessante come rendere agibile e fertile questa aggregazione compostibile senza secondo me aspirare a nuovi ritorni comunitari questi non li avremo più per piccoli gruppi di noi avremo una condivisione noi che abbiamo tutti più o meno tutti abbiamo studiato chi ha fatto il dottorato chi ha fatto questo chi ha fatto quello abbiamo un reddito minimo in questa sala che penso che non sia bassissimo diciamo quindi mettiamo insieme tutte queste cose e siamo frassimili entra nu no ma là fuori c'è altro allora capire come lavorare culturalmente anche rispetto a questa dimensione secondo me è una sfida fondamentale che richiede ed è l'ultima cosa che dico poi lascio chiudere al professore come meglio crede che richiede secondo me di stare su un crinale che io ho provato a identificare tante volte che è difficilissimo e che è il crinale fra alcuni principi di natura universale universale cioè occidentale se volete perché l'universale e l'occidentale mi ha insegnato il professor Sini che nascono insieme è la cultura occidentale che si pensa come universale Husserl crisi delle scienze europee cos'è questa cosa che siamo noi occidentali ma questi principi universali questi principi di natura universalistica sono anche molto preziosi perché sono quelli che per esempio permettono di trattare i conflitti del primo tipo principi di natura redistributiva principi di giustizia sociale principi di cittadinanza che sono tipicamente principi universalistici dall'altra parte la necessità di trattare la diversità radicale il fatto che siamo davvero così altri così diversi così differenti fra di noi come stare su questo crinale è estremamente io non lo so è estremamente difficile però io penso che questo sia il tema anche dell'urbanistica se vogliamo ma più complessivamente di chi vuole governare la possibilità del vivere insieme dentro le nostre città per quello che diceva appunto Gabriele come vai di fronte a questo problema ma siamo certamente d'accordo che principi universalistici diciamolo in maniera più corretta tu gli devi dare una casa stanno qua non hai nessuna ragione di mandarli via sono una ricchezza devi partire dal principio che non sono un danno che non sono no sono una ricchezza sono esseri umani creativi come tutti potenzialmente ma allora gli accogli vengono prima di tutto devi risolvere i problemi fondamentali della vita comune quotidiana devono avere una casa devono avere un lavoro mi pare evidente però come glielo dai glielo dai semplicemente burocraticamente che c'è un ufficio del comune che fa la lista no 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 la casa te la do ma la facciamo assieme la casa te la do ma tu mi mi spieghi come la vuoi in base alle tue esigenze alla tua cultura alla tua tradizione diventa un luogo di lavoro culturale che è al tempo stesso il primo passo indispensabile ti risolvo il problema economico di stare al mondo e di non vivere come un disperato ti risolvo il problema di che non hai bisogno di delinquere quindi se delinqui sei proprio un caso patologico e ce ne sono ma non hai bisogno di delinquere ma c'è di più tu mi devi portare la tua cultura devi arricchire me attraverso questo fatto che io dono a te la compartecipazione il fatto che è una cittadinanza che ti viene riconosciuta io voglio che tu mi porti la tua cultura e su quella base costruiamo l'economia comune anche con differenti maniere di vivere la città di immaginarla di festeggiarla ma per fare questo primo ci vogliono i soldi che non abbiamo e secondo ci vuole una cultura politica che non c'è però speriamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti